Mi aspetta una tragica fine. Mi ha tutta l'aria ormai. La vetrata dello studio è aperta. Sento un fuoco di vampare. Crepita. Il vento soffia dritto da nord. Manda delle scintille verso di me, ma si trasformano in fiocchi di cenere ed entrano volteggiando come neve. Sono sul mio cavalletto e non mi resta che prepararmi al peggio. Lui rientra dal giardino. Viene a prendermi. Non può essere altro.